Buongiorno a tutti gli amici di Occhio Pavese, siamo presso l'associazione culturale Voghera E perché sabato 20 maggio alle ore 18 presso il giardino delle idee di via Felice Cavallotti 16 proprio di fianco all'associazione avverrà la presentazione del libro Il Meteo in Tasca, scritto da Marcello Poggi e Gabriele Campagnoli, gli autori che sono proprio qui con noi. Buongiorno. Sì, buongiorno. Dunque, Il Meteo in Tasca, il sottotitolo è manuale per capire e prevedere il tempo. Che opera è? E nasce da un'idea che magari la gente quando va in giro può prevedere il tempo anche da sola magari se le applicazioni mete oppure i siti mete nazionali sono molto generici magari non sono molto dettagliate nella propria zona ognuno può cercare di capire dal cielo oppure come c'è scritto anche nel libro in modo molto semplice anche dalle mappe che può trovare su internet cercare anche di farsi una previsione da solo. Quanto sono affidabili le previsioni che vediamo sulle applicazioni, in televisione, sui siti internet eccetera? Beh, rispetto anche solo a 5-6 anni fa sicuramente l'affidabilità è migliorata moltissimo però non c'è mai tanta sicurezza al 100% soprattutto quando si va là giorni avanti ad esempio ci sono le previsioni infatti a 10-15 giorni di distanza magari anche con i simboli, l'ora esatta il simbolo a 10 giorni sicuramente quello non è affidabile oppure c'è gente che dà molto peso a questo le previsioni soprattutto entro i 2-3 giorni di distanza sono molto migliorate, hanno fatto grandi passi avanti Ecco, questo è un libro ovviamente che vuole permettere alle persone di in un qualche modo crearsi le previsioni meteorologiche da soli Come è nata proprio l'idea di fornire questo strumento ai lettori? Da quale esigenza nasce questa idea? La meteorologia è una cosa di cui appunto come dicevi parlano tutti, tutti si interessano molto spesso viene vista un po' come qualcosa ancora di magico e il previsore stesso viene visto come quello che o ha avuto fortuna nell'indovinare il tempo oppure non ci ha preso, insomma come se leggessi i fondi di caffè allora siccome non è poi così difficile spiegando le cose nel modo giusto senza andare nel dettaglio della fisica spiegare da una parte i fenomeni che stanno alla base quindi la pressione atmosferica, l'umidità, la struttura dell'atmosfera in modi soldoni diciamo e dall'altra invece vedere o appunto in campo aperto oppure attraverso semplici mappe perché ce ne sono poi tantissime poter conoscere diciamo meglio questa scienza avvicinarsi da un altro punto di vista che appunto non è il punto di vista di un'applicazione del guardare il sole piuttosto che il temporale senza nessuna descrizione ma magari riabituarsi a guardare il cielo oppure a fare una descrizione cioè aiutarsi con una descrizione a fare addirittura farsi un'idea personale del tempo che può fare poi ognuno potrà avere la propria conferma o smentita si può mettere alla prova da solo immagino che durante l'appuntamento di sabato 20 maggio potrà esserci un confronto tra voi e il pubblico presente e a proposito di imparare e confrontarsi so che c'è in previsione anche un corso di meteorologia, è vero? Esatto, è una novità diciamo assoluta perché sono tanto pochissime i meteorologi in Italia insomma ho avuto l'opportunità di frequentare dopo la laurea un master apposito qui in India Fisica in Meteorologia però poi è soprattutto la passione diciamo che fa e questo corso sarà infatti centrato anche sul territorio come è stato il libro precedente Il clima dell'altropa pavese non si può tanto prescindere una cosa dall'altra perché comunque non si può pretendere di fare i meteorologi nello specifico per qualunque parte del mondo preferiamo restare nel locale e cercare di essere dei bravi previsori delle province di Pavia e di Alessandria senza voler, anche se volendo con la tecnologia è possibile fare una previsione sulla Tanzania o per dove si vuole però poi il fattore umano è ancora importante quindi la conoscenza del posto e l'interpretazione del previsore che non guarda solo le mappe ma cerca un pochino di metterle insieme di decidere qual è l'evoluzione più giusta Ecco diamo gli estremi del caso quando si terrà e dove si terrà questo corso Allora il corso inizierà martedì 9 maggio presso la libreria Ticinum qui a Voghera in via Bidone poi saranno martedì 23 e martedì 30 maggio le date successive dalle 21 alle 22 e 30 niente a pora perché si parlerà in maniera molto tranquilla ci saranno gli spazi per le domande quindi una visione della meteorologia un po' curiosa un po' diversa senza doversi preoccupare di termini fisici da cui cercheremo di stare lontani perché mettono paura ma la meteorologia di per sé può essere anche solo divertente conoscere le nuvole, riconoscerle una cosa simpatica Per l'iscrizione immagino sia possibile rivolgersi alla libreria Ticinum Per l'iscrizione sì sul profilo Marcello Meteopoggi che è il mio profilo Facebook oppure telefonare alla libreria Ticinum possibilmente entro lunedì poi il costo sarà di 60 euro verrà dato del materiale utile per andare a vedere poi sulle mappe utili il materiale che verrà spiegato e poi un testato di partecipazione poi finale E quindi ricordiamo anche l'appuntamento di sabato 20 maggio alle ore 18 nel giardino delle idee di via Felice Cavallotti 16 per la presentazione del libro Il meteo in tasca di Marcello Poggi e Gabriele Campagnoli che sono stati qui con noi che ringraziamo Grazie mille